Buongiorno, come da tradizione a Pasqua siamo con Monsignor Daniele Giannotti, Vescovo di Crema. Buona Pasqua, Eccellenza. Grazie, buona Pasqua a lei e a tutti i telespettatori. Eccellenza, la guerra in Terra Santa, la guerra in Ucraina, un momento estremamente difficile. Come possiamo sentire il desiderio di rinascere, il desiderio di vivere serenamente in un momento tanto difficile? Eh, la Pasqua è inseparabile dalla croce. La Pasqua è l'annuncio che lì dove ci sono delle croci Dio si fa presente e trasforma la croce in salvezza e vita nuova. Credo che ci sia particolarmente bisogno proprio in questo momento di annunciare la speranza pasquale. Forse ciò che a noi pesa di più in questo momento, oltre al dolore per tutte le vittime appunto delle guerre, dei conflitti, e anche il senso di impotenza che abbiamo in noi, la percezione che non riusciamo a fare niente, non sappiamo cosa fare per cambiare direzione in queste situazioni così drammatiche. Che però, mi permetto anche di dire, non sono tutto ciò che succede al mondo. Ecco, credo che dovremmo essere capaci di vedere e forse anche di far vedere, qui lo dico anche a chi opera nei mezzi di comunicazione, anche le storie positive, anche i tentativi di riconciliazione, anche nel mezzo stesso delle guerre, le realtà nelle quali appunto si costruisce e non si distrugge, dove si cerca la pace, dove non si cerca il conflitto al matto. Ecco, credo che ci siano anche queste realtà, e anche queste sono naturalmente segno della Pasqua, e meriterebbero ecco di essere fatte conoscere. Eccellenza, lei ha usato la parola impotenza, dall'altro però ha messo anche la speranza e dell'aiuto. Ecco, la diocesi di Crema, come è in campo in questo momento difficile per dare supporto anche a chi sta soffrendo? Sì, la diocesi come diocesi abbiamo partecipato in questi anni a tutte le iniziative, in particolare le collette, diciamo così, di aiuto sia per l'Ucraina, sia per la Terra Santa, sia per altre realtà. Devo anche dire che i cremaschi sono particolarmente sensibili, particolarmente generosi, quando ci sono queste situazioni a rispondere, sia a livello appunto, per esempio, di aiuto economico, ma anche ad attivarsi, per esempio, in situazioni di accoglienza. L'abbiamo fatto per gli ucraini, lo continuiamo a fare perché abbiamo ancora persone che sono accolti in Ucraina, l'abbiamo fatto per i siriani, abbiamo ancora famiglie siriane, l'abbiamo fatto per gli afghani, insomma abbiamo sempre trovato persone capaci di mobilitarsi anche proprio a livello molto concreto, di organizzarsi, di darsi da fare appunto per rispondere per quanto possibile a queste situazioni, a queste richieste, anche questo mi sembra un bel segno pasquale, di cui io ringrazio proprio anche tutte le persone che lo mettono in atto, insomma. Ci sono però fratture che sono anche nelle nostre comunità, difficoltà, difficoltà economiche, ma non solo difficoltà spirituali, confusione anche perché in questo momento di grandi sommovimenti, diciamo così, anche lo spirito dei fedeli, lo spirito dei cristiani, non solo il loro, ha bisogno in qualche modo di essere guidato. Da questo punto di vista, la Chiesa, Madre Chiesa, che cosa può fare? Sì, ma io vorrei sottolineare, perlomeno per quello che vedo qui a Crema, soprattutto una cosa che mi sembra molto positiva, cioè il fatto che la Chiesa cerca di non lavorare da sola. Certo, come dirà, la sua missione è anche di insegnare, diciamo così, di testimoniare il Vangelo, ma poi anche di cercare di metterlo in pratica, però mi sembra importante il fatto che nel metterlo in pratica cerca di non farlo da sola e di far fronte appunto ai vari bisogni e situazioni, problemi tradizionali o anche più recenti. Faccio qualche esempio, penso ai vari tavoli in cui è coinvolta la Caritas diocesana, ma anche la Caritas nelle parrocchie di fronte a situazioni appunto di necessità. Penso alle collaborazioni con i servizi sociali, penso all'impegno degli oratori, ma insieme ai consultori familiari, insieme con altre realtà di fronte al disagio giovanile. Recentemente abbiamo firmato anche come diocesi un protocollo che riguarda il progetto Crema Città dell'Alzheimer per far fronte anche alle situazioni di difficoltà delle persone anziane. Quindi questo mi sembra un segno molto bello. Certo, ci sono anche questioni molto grandi, di questioni che riguardano proprio la cultura complessiva nella quale viviamo e sulla quale non è che si possa agire tanto facilmente, però almeno come diocesi cerchiamo di essere attenti, sensibili, di rifletterci e di collaborare, anche di migliorare di fronte appunto alle varie situazioni di bisogno e di cambiamento che ci troviamo davanti. Cambiamento è una parola estremamente attuale, lo è da sempre in realtà, però anche la Chiesa in questo momento sta vivendo anche nella sua organizzazione territoriale, nel suo modo di essere vicino ai fedeli, una profonda riorganizzazione. Mi riferisco alla nascita delle unità pastorali, mi riferisco al nuovo ruolo del laicato, al nuovo impegno che viene chiesto. Ecco, da questo punto di vista crema? Ma allora, io penso che al di là dei problemi concreti che possiamo avere anche nell'una o nell'altra situazione, che cerchiamo naturalmente di essere attenti e di accompagnare anche eventuali situazioni, difficoltà che possono nascere, per esempio nell'una o nell'altra parrocchia, quando si avvia un progetto di unità pastorale e così via, penso che la difficoltà maggiore sia dovuta al fatto che ci troviamo come Chiesa a vivere, come Chiesa non soltanto, a vivere un momento di grande trasformazione, appunto di grande cambiamento della vita e dell'assetto della Chiesa e credo che onestamente nessuno di noi può dire quale sarà l'esito. Cioè dobbiamo un po', mi sembra, navigare a vista e questo evidentemente non è una situazione facile per nessuno. D'altra parte penso, e lo penso anche in base, per esempio, alle visite pastorali che ho continuato anche in questo anno, questi mesi, che ci siano ancora nelle nostre parrocchie, nella diocesi, ancora delle risorse buone di persone soprattutto da mettere in campo. Ci sono persone brave, generose. Questo mi dà serenità e per quanto mi riguarda rende anche un po' secondari eventuali malumori e incomprensioni, proprio perché mi sembra di vedere generosità, disponibilità, anche disponibilità a riflettere, a mettersi in questione, a cercare vie nuove e questo mi sembra molto bello ed è quello che mi aiuta anche poi ad andare avanti. Molto bello questo passaggio che ha detto sul sostegno reciproco e anche quello precedente, quando parlava di come realtà diverse che vivono sul territorio, vivono dentro la comunità, si sostengono e si aiutano. Monsignor Oscar Cantoni, con Monsignor Oscar Cantoni la diocesi di Crema aveva aperto il rifugio San Martino. Ecco, in questi giorni proprio c'è stato l'annuncio di questo trasferimento, quindi di questa nuova rinascita, se posso dire, perché crescono gli spazi. Anche questo è un bel modo, mi sembra, di vivere la comunità. Sì, sì, assolutamente sì. Cercavamo appunto una sede migliore, una sede più grande, più funzionale per il servizio del rifugio, che era nata appunto una decina di anni fa come dormitorio, poi soprattutto durante il periodo del Covid ha allargato un po' il suo servizio, con una mensa e poi anche con un centro di urno, proprio per situazioni di estrema povertà per persone che vivono in strada. La possibilità di trovare questa nuova sede in collaborazione con il Comune di Crema e con la Fondazione Benefattori Cremaschi e di riattivare appunto alcuni ambienti dell'Istituto Ex Misericordia, come viene chiamato, recuperando così anche alcune funzionalità originarie di questo rifugio, insomma ci è sembrato una bella opportunità, ci è sembrato una bella occasione, fa parte appunto di quel lavorare in rete di cui dicevo prima che mi sembra un metodo prezioso e che io voglio privilegiare. Le posso chiedere una cosa a questo proposito anche per i giovani? I giovani sono estremamente importanti come risorsa, sono il nostro futuro, sono la capacità di prendere il testimone e di portarlo nel futuro. Ecco, come vede questo momento di... Sì, se permette io direi che i giovani non sono il nostro futuro ma sono il nostro presente, nel senso che ci sono, sono parte della nostra società, del mondo in cui viviamo, credo che avrebbero bisogno di essere ascoltati e accompagnati, non come qualcuno che dovrà fare delle cose, ma come qualcuno che già adesso può fare e può dare un contributo importante alla nostra società. Da parte della Chiesa certamente l'ambito maggiore in cui lo si cerca di fare è nell'ambito della vita degli oratori, che sono ancora una risorsa importante per le nostre parrocchie. Dobbiamo, come dire, farli crescere un po' soprattutto sotto l'aspetto formativo e anche qui dobbiamo, cerchiamo di farlo, e dobbiamo metterci in rete con altri. Lo stiamo già cercando di fare. Per esempio, per me è un momento molto bello delle visite pastorali, sono gli incontri nelle scuole. Devo ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i consigli di istituto che mi permettono di incontrare gli adolescenti e i giovani nell'ambito delle scuole. Sono momenti belli e vedo anche che c'è una ricchezza, diciamo così, giovanile significativa. Certo, dobbiamo anche riconoscere le situazioni di disagio, lavorarci anche su questo appunto facendo rete tra le varie realtà e appunto mi sembra forse dando più spazio, più fiducia anche ai giovani, lasciandogli anche sbagliare evidentemente, perché insomma abbiamo sbagliato anche noi quando eravamo giovani, penso in certe cose, e credo che dovremmo essere più ottimisti e più vicini anche appunto a un protagonismo ecco dei giovani anche nella nostra vita, lo penso per la vita della Chiesa e lo penso anche per la vita della società tutta. Eccellenza, è Pasqua che augurio per i cristiani, per chi ci sta seguendo e per tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Sì, ma tornerei per l'augurio pasquale un po' quello che dicevo prima, cioè su questo senso di impotenza, di inadeguatezza, che forse ci accompagna quando guardiamo ai grandi drammi del mondo che abbiamo davanti. Non so come si sentissero i discepoli di Gesù appunto all'indomani della sua morte, ma è facile immaginarli avviliti, appesantiti, non solo dal senso del fallimento di Gesù stesso, ma del loro stesso fallimento appunto come discepoli. E finché sono stati appunto aiutati, e questo è ciò che accade nel giorno di Pasqua come oggi, no? Fino a questo sono stati aiutati a capire che in quel fallimento c'era tutta la forza di una vita donata, quella di Gesù e in Lui quella di Dio stesso, una forza appunto più forte della morte. E qui io vorrei augurare a me, ai cristiani di Crema e appunto a tutti, che la Pasqua ridesti in noi fiducia in questa potenza di vita, proprio per uscire ecco da questo senso di impotenza che ci avvilisce e renderci disponibili a far fiorire la vita e la pace in ogni situazione, in ogni circostanza. Ecco, questo mi sembrerebbe un augurio di buona Pasqua. Grazie Vescovo Daniele, grazie delle sue parole, grazie di cuore. Grazie a voi. E buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie a voi.